Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italiano I fan della Showgirl accolgono nuovamente di sorpresa e si congratulano con lei per il suo percorso di rinascita nella casa Le sorprese per Miriana non sono finite, la Showgirl riceve un nuovo ed emozionante messaggio da parte dei suoi sostenitori Miri la tua rinascita La nostra vittoria fans, ai fan di Miriana non è passato inosservato il lavoro di crescita e di rinascita che la Showgirl ha portato a termine nella casa dove, rimettendosi in gioco dopo anni difficili, è riuscita a ritrovare stima in se stessa e la sua femminilità Questa è proprio bella bella! Mi scalda come il sole! Commenta Felice Miriana, supportata dagli altri VIP e in particolare da Manila, è un messaggio bellissimo Grazie per aver guardato l'intero video.Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo ai prossimi video addio